Che levataccia, sono le 6 e mezza di mattina e sono appena arrivato a Firenze ma ho già iniziato con un risparmio perché ho viaggiato questa notte quindi non ho dormito in hotel. Pronti? Iniziamo anche questa avventura Ciao a tutti, sono Daniele e bentornati su Subri Channel siete pronti a scoprire che cosa è successo nella terza tappa del mio tour in giro per l'Italia? ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video di Subri in giro per l'Italia che usciranno e non solo. Eccomi qua, sono a Firenze e si prospetta una settimana calda ma spero meno calda di quella di Napoli perché onestamente è stata molto calda anche se era prevedibile a cavallo di ferragosto Bene, ho trovato delle sistemazioni veramente interessanti ed anche economiche forse proprio perché ero lontano dalla settimana di ferragosto ma ho trovato anche delle difficoltà già, delle difficoltà proprio per arrivare in centro la mattina così presto perché sono arrivato alle 6 e mezza diciamo che questo mi ha permesso di risparmiare una notte in hotel perché appunto la notte tra domenica e lunedì ho viaggiato e non ho soggiornato in un hotel o una stanza o qualsiasi ma avendo viaggiato ho risparmiato appunto una notte però il problema era l'arrivo perché col treno ovviamente la stazione centrale Santa Maria Novella è molto comoda, BlaBlaCar è un po' dove ti lascia chi ti offre il passaggio mentre con l'autobus c'erano due possibilità o la stazione degli autobus vicino a Santa Maria Novella oppure la stazione di Villa Costanza che è un'uscita dell'autostrada vicino a Scandicci a mezz'ora di autobus dal centro di Firenze quindi alle 6 e mezza di mattina un po' scomodo ma vediamo subito che trasporti ho scelto dove ho soggiornato e che cosa ho fatto a Firenze in questa settimana per la ricerca del mezzo più economico quindi sono partito come sempre guardando il sito di Trenitalia che mi ha abbastanza deluso perché purtroppo l'unico treno disponibile aveva come orario di partenza le 6 e come ora di arrivo a Firenze quasi le 15 con quindi 9 ore di viaggio più 3 cambi da fare altrimenti le uniche soluzioni disponibili erano il giorno successivo tutte comunque ad un costo abbastanza contenuto ovvero 36,35 euro altrimenti dovevo puntare sul Frecciarossa a dei costi nettamente superiori per Flixbus invece la questione trasporti si è iniziata a fare molto interessante perché ho notato immediatamente dei pullman senza cambio che con poco più di 6 ore di viaggio riuscivano ad arrivare a Firenze a Piazzale Montelungo che per l'appunto è accanto alla stazione di Santa Maria Novella mentre le altre destinazioni purtroppo erano tutte a Villa Costanza ed il prezzo iniziava a levitare e quindi ho tenuto a mente 27,99 con il viaggio in notturna risparmiando sull'hotel non so voi ma io adoro viaggiare in notturna innanzitutto perché come in questo caso avendo una prenotazione posso risparmiare una notte in hotel ma poi anche perché d'estate il pullman ha l'aria condizionata c'è comunque il bagno, il pullman fa le sue fermate l'unica cosa ovviamente da tenere a mente è che si può trovare un vicino che con il covid ovviamente non ci sarà però un vicino che russa oppure che si allarga e occupa anche parte del nostro sedile oppure la sfiga di avere qualcuno davanti a noi che si stende con il sedile manco fosse sul lettino a prendere il sole però quello a parte i pullman in questo periodo sono parecchio vuoti quindi onestamente si può anche cambiare posto senza alcun problema io il viaggio in notturna lo preferisco e lo consiglio diverso invece prezzo ed orario per quanto riguarda Itabus per il quale mi aspettavo di pagare decisamente meno purtroppo anche loro come arrivo avevano la possibilità di scegliere tra Montelungo e Villa Costanza ma con prezzi decisamente più elevati rispetto a Flixbus a parte per una tratta con la partenza a mezzanotte 20 ed arrivo poco dopo le 6 qui la scelta è stata dura perché sul piatto della bilancia c'era la possibilità di lasciare la struttura ovviamente il checkout bisogna farlo nella mattina o massimo per le 14 e stare in giro con tutte le valigie fino alle 22 e 30 per Flixbus o addirittura mezzanotte e mezza per Itabus oppure partire prima ed arrivare quindi prima a Firenze e dormire direttamente la domenica notte a Firenze ma mancava ancora bla bla car come passaggi in auto ne ho trovati ben 48 ed alcuni anche al completo e non sono stato a guardare onestamente l'ora ma più che altro la vicinanza sia per la partenza sia per l'arrivo con il centro città infatti ne ho trovati molti con partenza dal centro di Napoli ma pochi con l'arrivo in centro a Firenze a parte un passaggio con arrivo proprio vicino alla stazione di Santa Maria Novella verso le 14 e la partenza poco dopo le 8 di mattina in una stazione di carburante vicino all'aeroporto di Napoli non proprio vicinissimo al mio alloggio e comunque dal prezzo di 25 euro alla fine ho fatto la scelta più economica e forse anche più sensata perché Flixbus avrei comunque dovuto prenderlo lontano dal centro di Napoli quindi avrei dovuto con tutte le valigie prendere un treno che mi portasse a una stazione per poi prendere da lì il Flixbus senza sapere che cosa ci fosse intorno a quella stazione soprattutto cosa ci fosse di aperto intorno alle 9 o 10 di sera mentre Itabus partendo proprio accanto alla stazione centrale ovviamente mi dava la possibilità di appoggiarmi al Burger King al McDonald o in qualsiasi altro bar con wifi per aspettare comodamente l'arrivo dell'autobus anche se tardi beh ho fatto quella scelta e mi è andata anche bene perché la proprietaria di casa di Napoli mi ha fatto innanzitutto lasciare le valigie senza problemi per poi andarle a recuperare verso le 21 ma soprattutto non mi ha messo fretta per uscire infatti sono uscito dalla stanza dopo l'una senza alcun problema aver potuto anche starci tutto il pomeriggio ma ho comunque voluto girare un po' Napoli come avete visto nello scorso video e quindi direi che tra tutto ho risparmiato e mi è andata anche bene per quanto riguarda il pernottamento tramite Airbnb ho trovato anche qua parecchie stanze private di cui alcune anche fraudolente poiché in realtà erano dormitori impostando sempre il costo massimo di 40 euro per notte anche su booking ho trovato molti ostelli con prezzi decisamente vantaggiosi ma la mia attenzione è ricaduta su una fitta camere con un prezzo decisamente interessante ed anche abbastanza vicino alla stazione centrale per l'intero pernottamento la stanza con bagno privato era solo 156 euro struttura comunque ben quotata con più di 900 recensioni e quelle negative erano di poco conto non so per quale motivo ma allo stesso tempo ho voluto guardare anche booking sull'applicazione e tramite il browser web del cellulare ed in effetti la stessa stanza non costava 156 ma 143 comprese le tasse di soggiorno con proprio la scritta sconto per mobile quindi contando la camera con bagno privato il wifi e la buona posizione rispetto alla stazione ho tenuto a mente questa soluzione con un prezzo di quasi 23 euro a notte e pensavo onestamente di non trovare di meglio fino a quando mi sono imbattuto in un bed and breakfast che come costo sul web aveva 176 euro per 6 notti ma c'era anche un video su youtube che pubblicizzava la struttura con un 15% di sconto contando quindi 176 euro meno il 15% di sconto ho contato di poter soggiornare per circa 150 euro sì situazione un po' più cara rispetto all'affitta camera ma posizione migliore e soprattutto stanza decisamente più bella e quindi ho deciso di contattare la struttura su whatsapp visto che c'era questa possibilità chiedendo se la camera fosse disponibile per le date in cui io dovevo essere a Firenze una volta ricevuta la risposta affermativa ci siamo sentiti telefonicamente e il proprietario mi ha detto che il suo prezzo normale era di 35 euro per notte quindi sarebbe venuto 210 euro e già lì mi è sorto un piccolo dubbio ma aspettate una volta che ovviamente ci siamo messi d'accordo quindi confermato le date dovrebbero essere quelle e quant'altro mi ha detto di sì che poteva farmi uno sconto ma non potevo chiedergli meno di 30 euro per notte quindi il totale sarebbe venuto di 180 euro ma è 180 euro quindi più caro di 176 che era quello pubblicizzato sul sito da cui si poteva togliere il 15% di sconto va bene ho lasciato perdere ho ringraziato e ho prenotato quindi subito prima che andassero via tutte le camere l'affittacamera a 143 euro per tutto il soggiorno ho fatto anche presente alla struttura che io sarei arrivato a Firenze per le 7 di mattina e se c'era ovviamente la possibilità di accedere prima alla stanza del check-in dichiarato su booking alle 12 mi hanno detto che purtroppo non era possibile perché la mia stanza era occupata e avrebbero dovuto quindi fare il check-out e poi pulirla però nessun problema perché mi hanno proposto la possibilità di lasciare le valigie direttamente in reception per girare tranquillamente per Firenze senza tanti pesi addosso rientrare per le 12 e poi poter salire finalmente in camera quindi direi un buon servizio alla fine però arrivato a Firenze mi sono accorto che mi sarebbe costato meno tempo e fatica aspettare al McDonald's aperto 24 ore su 24 alla stazione prendendo un caffè e nel frattempo lavorando al computer piuttosto che fare avanti e indietro tra la struttura ed un altro punto qualsiasi di Firenze ovviamente anche perché la stanchezza si è fatta sentire tutta alle 7 di mattina quindi ho preferito rimanere al Mac a prepararmi tutte le varie tappe che avrei fatto nei giorni successivi piuttosto che girare con mete non ancora prefissate per Firenze a piedi stancandomi ancora di più il room tour come sempre ve l'ho già fatto fare su Instagram quindi se ve lo siete persi vi invito ad andare sulla mia pagina Instagram per rivedere tutte le storie che sono sempre in evidenza anche quelle di Firenze ormai ci saranno già e beh diciamo che la stanza è molto spartana però per 20 euro per notte ricordiamo la differenza con quella di Napoli che era una stanza in una casa condivisa con bagno condiviso ovviamente con la possibilità di usare la cucina e anche la lavatrice che qua non c'è però qua ho il bagno privato e c'è la pulizia tutti i giorni appunto essendo una fitta camera in centro a Firenze direi che più di così è difficile pretendere ma quanto ho speso quindi per stare in tutto una settimana a Firenze beh innanzitutto partiamo dal viaggio 25 euro e 90 dopodiché il pernottamento 143 euro comprese le tasse di soggiorno dopodiché il cibo ovviamente iniziando dal McDonald quello pre partenza e anche quello una volta arrivato a Firenze 4 euro in tutto poi il cibo con 2 good to go 12,96 sì è pochissimo ma mi hanno regalato una box e nel video dedicato vi dico quello che è successo e poi beh è la lavatrice che ho dovuto fare quindi lavaggio asciugatura e sapone 5 euro in tutto purtroppo qua non era compresa con la casa e beh il tutto comunque è costato 190,86 direi un ottimo risultato ehi il video non è finito qua qui là ti troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da YouTube mentre qui al centro il tasto per iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento venerdì alle 14 dicci grazie a tutti